Esserci per difendere la propria terra, come a potenza per manifestare contro la volontà del governatore di non impugnare lo sblocco Italia, come a Montegrosso per protestare contro la possibile apertura del pozzo petrolifero. Questo è lo spirito con il quale il consigliere di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia Gianni Rosa ha partecipato alla manifestazione indetta a Policoro per scongiurare il pericolo che anche il mare possa essere oggetto delle trivellazioni da parte delle società petrolifere. Da Buppico a Pittelle in dieci anni a Detto Rosa non è cambiato niente. Barattano carriere politiche con la salute dei Lucani e i Lucani ai noi gliel'hanno permesso. Ma forse i tempi sono maturi e oggi bisogna essere ancora più compatti contro i poteri forti del PD e associati e dei petroliferi. Quanto alle scelte operate dall'Aggiunta regionale sul decreto legge sblocca Italia e con l'autorizzazione alla bonifica a Montegrosso, noi sfidiamo Pittelle a dire, a concluso Rosa, che la connivenza con Renzi è stato un successo.